Buonasera a tutti, benvenuti in Biblioteca Raffaello, benvenuti ai nostri spettatori, anche questi in diretta streaming e benvenuti ai nostri graditissimi ospiti. Questo è il terzo degli appuntamenti che Biblioteche di Roma insieme alla Fondazione Bellonci sta organizzando per presentare ai circoli di lettura delle biblioteche i 12 libri candidati per quest'anno al premio Strega. Questa sera abbiamo con noi Marco Amerighi, Corrandaggi, di Bollati Boringhieri e Mario Desiati, Dispatriati, con dell'editrice Einaudi. Ci guiderà e ci aiuterà in questo incontro Paolo Di Paolo. Grazie. Bene, eccoci. Allora scusate ma c'è stato davvero un piccolo problema di orario, nel senso che questo evento era previsto per le 5 e mezza, poi avevamo chiesto di anticiparlo ma appunto era stata persa nel passaggio l'informazione, quindi ecco cominciamo in una via mediana perché sono le 5 e 20, quindi va bene così. Nel caso, questo nasceva anche da un problema mio alle 6 e poco più, ma c'è un giornalista molto attrezzato che in caso sostituirà nella parte finale anche per gestire la parte col pubblico diciamo nel tempo... Roberto Ippolito che adesso osserva da bordo campo tutto e poi entra in campo ai tempi supplementari. Ma a parte le battute, dunque questo fa parte, questo incontro come è stato detto fa parte di un lavoro che Fondazione Bellonci fa ormai da diversi anni di portare i candidati della dozzina al premio Strega in molte e tutte le biblioteche comunali di Roma e associando spesso appunto scrittori e scrittrici che hanno anche qualche volta un filo naturalmente in comune, naturalmente non sempre questo è fattibile ma nel caso di questi due scrittori è molto interessante l'accostamento, mi verrebbe da dire fin dal titolo perché il libro di Mario Desiati si intitola Spatriati e anche quello di Marco Amerighi ha un unico lemma come titolo, Randaggi che potrebbe rientrare diciamo così tra i sinonimi su cui tante volte anche Mario stesso si è interrogato per spiegare che cosa vuol dire Spatriati, la parola Spatriati è abbastanza intuitiva ma lui stesso in qualche intervista ha detto che poi trova sempre ulteriori diciamo specifiche o sinonimi appunto di questo termine sono due romanzi evidentemente diversi ma che ragionano entrambi sulle radici su quello che significa anche sradicarsi ed eventualmente sradicarsi per poi trovare finalmente se stessi se usassimo diciamo così la categoria un po' logora di romanzo di formazione non saremmo troppo lontani però secondo me qua la formazione è molto terremotata è molto complessa e forse anche un po' una sformazione per certi versi no? perché dalle certezze apparenti da cui questi personaggi muovono in un caso e nell'altro poi in realtà loro guadagnano uno spazio di libertà proprio andando altrove i due elementi da cui vorrei partire sono polarmente opposti in realtà cioè c'è un passaggio del libro di Marco Amerighi sono storie che hanno a che fare entrambe con personaggi giovani personaggi che devono costruire appunto la loro identità o le loro identità e nel caso di Amerighi appunto la loro formazione o sformazione diciamo è un pezzo di primi anni 2000 sostanzialmente tardissimo 900 e primi anni 2000 non tanto distante dal periodo che hanno alle spalle anche i personaggi raccontati da Mario Desiati ma a un certo punto del libro di Marco Amerighi Randaggi si legge che c'è in qualche misura la voglia di andare via però forse rattenuta almeno generazionalmente c'è questa voglia di andare via rattenuta nel caso di un personaggio quello che è protagonista di questa storia e volevo leggervi un passaggio di poche righe prima di dare la parola ai nostri due ospiti forse si era convinto Pietro nel suo cuore non bruciava nessuna curiosità per il mondo negli anni di ascolti, esercitazioni e ripetizioni che lo portarono a diplomarsi nel pomeriggio del 20 luglio 2001 di fronte a uno striminzito gruppo di docenti, familiari e amici più interessati a seguire sulla tv nel gabbiotto del custode la confusa cronaca degli scontri al G8 di Genova che l'esecuzione della grande sonata per chitarra sola di Paganini e il fandaghiglio di Turina e di quel capellone sovrappeso Pietro capì che la sua vita era tutta lì a differenza dei suoi coetanei lui non provava nessun desiderio di sbarcare il lunario in un campo di kiwi australiano crepato dal sole o di viaggiare in interrail coricandosi negli ostelli più luridi ed economici del Portogallo per scoprire se stesso tra cavalloni di alcol e droghe dice appunto a differenza dei suoi coetanei non provava nessun desiderio di sbarcare il lunario in un campo di kiwi australiano in realtà poi tutto il libro qui eravamo nelle prime 50 pagine tutto il libro si svolge anche in un movimento centrifugo Pietro che è il tuo protagonista questo ragazzo che appunto diventa adulto a cavallo tra 900 e 2000 un po' somigliandoti anche generazionalmente almeno no? sei nato negli anni 80 e questo personaggio appunto come dire comincia ad affacciarsi alla vita adulta quando il secolo nuovo è già cominciato apparentemente vorrebbe restare lì dov'è in quella porzione di Toscana da cui viene e poi invece qualcosa lo spinge fuori mi incuriosiva questo ti dà anche modo di presentare il personaggio capire perché almeno per come ti sei immaginato la sua psicologia lui sente di essere diverso almeno in quel momento della sua vita dai suoi coetanei e vuole restare e non andarsene ma sì dici una cosa molto giusta e identificativa di Pietro Benati perché per dirla alla Musil è un ragazzo senza qualità Pietro non ha talenti si sente diverso anzi direi una tacca sotto la normalità e quindi incapace di andarsi a cercare questo posto nel mondo a cui facevi riferimento e se questo diciamo è uno svantaggio un po' per tutti lo sarebbe per tutti noi per lui lo è un pochino di più perché viene da una famiglia di uomini straordinari ha un nonno che è stato un eroe di guerra in Etiopia nel 36 si è beccato una granata che gli ha distrutto l'omero è scomparso per un anno è ritornato è tornato peraltro con un figlio da un'altra donna ha un padre che negli anni 70-80 a Pisa ha spadroneggiato aprendo attività commerciali chiudendole alla velocità della luce e certe volte queste attività non erano nemmeno propriamente legali e poi ha un fratello maggiore Tommaso che è una sorta di remmida quindi qualunque cosa tocchi la trasforma in oro e lui invece sembra avere tutto ciò che Pietro non ha è un Don Giovanni è un genio della matematica studierà alla scuola normale superiore di Pisa è un bravissimo calciatore esordisce a 18 anni in Serie A nel Pisa e poi c'è Pietro che come tu dicevi si sente diverso e diverso lo è per la prima parte del romanzo lui cerca di capire che cos'ha addirittura si ricorda di un momento nel quale suo padre lo avrebbe preso guardato contro luce come una radiografia per capire se in effetti c'è un difetto congenito solo che se il difetto c'è e poi potremmo un po' portarlo anche un po' più avanti nel dibattito in quello che dicevi che forse ci accomuna con Mario e quindi qualcosa di più generazionale è senza dubbio il fatto che ha paura è un ragazzo che ha molta paura ha una fifa tremenda del mondo delle reazioni con gli altri e proprio come dicevi tu prima il romanzo inizia che Pietro è a un bivio da un lato sente che se continua a vivere in questa famiglia di uomini straordinari e così ingombranti sarà una vita tranquilla ma non la vita che lui ha scelto non la vita che lo renderebbe sereno e felice sicuramente una vita più comoda dall'altro c'è l'altrove infatti quindi qualcosa di diverso qualcosa di molto più stimolante però anche molto rischioso e quindi il romanzo inizia con lui al bivio che sta cercando di capire come in effetti uscire da questo dilemma insomma è un bel dilemma direi il dilemma che spesso ci colpisce un po' tutti narrativamente parlando c'è un meccanismo che porta avanti la storia cioè il fratello talentuoso che con l'inganno lo spinge fuori da questa famiglia lo costringe a iscriversi a un programma di studio all'estero quindi andrà a Madrid e lì come dici tu inizia quel romanzo di formazione dei romanzi di formazione che si tratti di Dickens o dei nostri diciamo antisignani italiani poco cambia cioè deve essere faticoso deve comunque un personaggio superare una serie di fatiche quello però che Pietro farà e che mi interessava di più rispetto a un semplice romanzo di formazione è che si studierà cioè si prenderà del tempo per se stesso cosa che invece finora non ha mai fatto rincorre sempre quello che deve essere ed ecco questo sposta un po' forse il libro non solo romanzo di formazione ma diventa anche qualcos'altro è un romanzo generazionale romanzo di viaggio è un romanzo su un personaggio che si prende il tempo e io con lui quindi certi momenti che nel romanzo di formazione sono per ovvi motivi momenti di crescita è il personaggio che deve superare delle prove per arrivare al suo oggetto del desiderio ecco mi sembra che un personaggio come Pietro Benati molto rappresentativo di una generazione intuisca che di fatto non c'è nessun oggetto del desiderio che quello che gli è stato proposto a lui alla sua generazione felicità famiglia un futuro di fatto non c'è era un po' quello che Fitzgerald chiamava la luce verde nel grande Gatsby questa generazione si aspettava di trovarla ma di fatto non c'era e aver scoperto che non c'era questa luce verde ha prodotto uno spaisamento che lo ha e li ha reso appunto raminghi randagi per l'appunto randagi appunto o raminghi vedi che adesso torna questo aggettivo anche ramingo che quindi giochiamo un po' sui sinonimi dà una sensazione di qualcosa che si cerca nel presente e quindi c'è una ampia porzione di questo romanzo in cui noi guardiamo Pietro dentro quel pezzo di mondo fuori dal suo e quindi può essere nello specifico un Erasmus ma insomma l'occasione è meno rilevante di quello che poi gli accade nello spazio lontano nel caso di Mario sembra come che questo appunto invece participio passato abbia già in qualche modo il segno di una delusione di un di un ritorno possibile lo spatriamento c'è già stato e quella delusione che Pietro incontra eventualmente o deve ancora incontrare nel caso del romanzo di Mario Desiati è forse già alle spalle la prospettiva diciamo già l'assunta quella delusione ora non farò più questo pendolarismo diciamo così cercando delle assonanze o delle dissonanze delle similitudini perché sono due romanzi diversi però voglio leggervi l'inizio della parte seconda dove la definizione di spatriati viene data anche prendendo proprio la voce nel dialetto specifico di Martina Franca che in Puglia è il luogo tra l'altro in cui Mario è nato e mi piace molto perché non so pronunciarlo bene però per pronunciarlo occorre la Sheva in qualche modo cioè questo suono indistinto che sapete è al centro del dibattito linguistico nella rappresentazione diciamo alternativa al maschile sovraesteso non so se avete seguito un po' l'uso della Sheva il fatto è che Sheva va pronunciata come una specie di e sospesa come in Napul per esempio se uno volesse pronunciarlo e infatti questo è spatriate ah scusa spatriate quindi la Sheva va sul finale perché lascia questa sospensione fatto è aggettivo ramingo senza meta interrotto detto del sonno che si interrompe questa è bellissima per esempio sun spatriate anche balordo irrisolto allontanato sparpagliato disperso incerto poi c'è un esempio dal dizionario martinese italiano lasciò aperto il pollaio le galline si dispersero nella vigna quindi spatriere ecco bellissimo perché questo che sembra appunto come dire un aggettivo semplice in realtà è molto più complesso di quanto sembri e Mario volevo anche a te leggere parte questa definizione leggere proprio qui cinque righe siamo sempre all'inizio del romanzo i personaggi principali sono Claudio e Francesco crescono insieme poi lo spatriamento appunto produrrà una distanza che in parte viene riassorbita c'è questo segno appunto di delusione c'è una parte molto bella in cui appunto uno raggiunge l'altra che è già spatriata appunto e sente che cosa vuol dire essere già andati via e forse non so non essere riusciti del tutto a fare quello e a essere quello che si voleva comunque in questo momento quando sono due ragazzi si dicono una cosa Francesco dice Claudia non possiamo stare insieme tu qui parli solo con me certe cose le posso capire solo io ed eccolo il maschio ferito il ricattatorio che sbandiera la complicità come prova d'amore non vivo bene qui ma il mondo è molto più grande di noi due i suoi occhi strattonavano la mia anima ed era come se ciò che stava per dirmi le costasse più del rifiutarmi come fidanzato non posso restare qui continuò in questa scuola no in Italia l'orizzonte si appannò e la luce delle finestre si trasformò in lampi intollerabili il flash prima di un feroce ottundimento via dall'Italia balbettai come se non avessi capito sì sarebbe partita per Londra credetti fossero vacanze invece avrebbe frequentato il quarto superiore all'estero poi forse sarebbe tornata per l'ultimo anno forse sei impazzita ad andare via adesso ero risentito sei pazzo tu anzi sei addormentato io non respiro qui voglio stare dove succedono le cose e qui non succede niente non imparo niente sono ancora lontani anche se il tempo è minimo però in quella fase della giovinezza un anno è una era geologica e sono ancora molto lontani dal vero e proprio spatriamento quello che poi come dire determinerà appunto la loro distanza il loro tentativo di affermarsi in qualche modo di trovare un senso nella loro vita però è proprio una diversa prospettiva rispetto a quella di Pietro quella che ha che ha Claudia proprio potremmo metterli in qualche modo in dialogo c'è uno che dice che cosa vai a fare via e lei che invece sente proprio un senso di soffocamento ecco volevo chiedere anche a te proprio per presentarci due personaggi se questo senso anzi ti aggiungo un elemento visto anche le conclusioni del discorso che faceva Marco se credi che sia veramente per quanto l'aggettivo sia un po' insopportabile generazionale questo senso questa volontà di fuga o forse non c'entra con tutte le adolescenze in tutti i climi in tutte le geografie a un certo punto la sensazione di avere stretto soprattutto in provincia in qualche modo nella provincia del mondo in assoluto questo senso di soffocamento allora innanzitutto buonasera e ringrazio insomma della suggestione Paolo Di Paolo e anche è bello insomma che ci sia un confronto con questo romanzo di Marco Emerichia che a me è piaciuto molto e tra l'altro abbiamo delle cose in comune sicuramente e una di queste per esempio è anche un po' la pressione sociale io penso che la pressione sociale sia una caratteristica che non è solo della provincia ma esiste in tutti i luoghi sul lavoro nelle nostre cerchie di amicizie nelle nostre cerchie professionale nella famiglia la pressione sociale è un problema che molto spesso ha a che fare con la nostra identità l'identità è una parola bellissima ma anche una parola molto pericolosa perché cercare di assomigliare a se stessi noi molto spesso capiamo qualcosa di noi stessi quando certi passaggi certe scelte sarebbero state già dovute essere fatte tanti anni prima caspita ma io ho sbagliato tutto oppure io forse non era questo il posto dove dovevo vivere non era questo il lavoro che dovevo fare io sono quest'altra persona e molti per esempio dimenticano questa cosa dicono meglio non saperlo chiero e quindi fingono per tutta la vita portano avanti questa finzione per tutta la vita e questa identità che appunto viene poi dalla parola latina idem cioè essere uguali a se stessi è la sfida degli spatriati Claudia capisce che lei non potrà mai essere se stessa in quella famiglia in cui è cresciuta in quel luogo in cui è cresciuto ma non perché provincia perché sono persone che hanno valori diversi da lei hanno un'apertura del mondo diversa le hanno meno curiosità e invece Francesco all'inizio è uno che le cose cerca di farsele bastare cerca il buono in tutto quello che gli sta attorno addirittura interpreta dei segni della pressione sociale come dei segni di libertà potersi mettere la tonaca come Chierichetto durante una processione gli permette di liberarsi le gambe di avere una gonna lunga così come scherzosamente Claudia gli dice guarda ti stanno bene le tonache e lui interpreta tutti quegli segnali insomma invece del vivere comune della persona perfetta organizzata completamente non spatriata e quindi questo rapporto è un rapporto soprattutto con l'identità e infatti quando ho iniziato a scrivere questa storia sono partito da una suggestione un dettaglio dovuto anche al fatto che ero andato via dall'Italia ed ero chiamato spatriato dal punto di vista giornalistico ah ma sei spatriato però mi sono ricordato che a 15 anni mi dicevano spatriato perché mi vestivo in maniera diversa dagli altri parlavo meno il dialetto degli altri tante altre cose un po' diverso dalla mia dalla mia cerchia ed eri lo spatriato però detto in maniera negativa e il concetto di patria da cui appunto ci si spatria non è soltanto un confine fatto un confine geografico una lingua ma è una parola molto molto interessante perché la parola patria in Italia è nell'uso anche dialettale in molte parti non è soltanto appunto il luogo geografico ma è anche un'idea di convenzione comune no? l'idea di essere spatriato che si fuori dalla convenzione in tedesco esistono tante parole per dire patria cioè diciamo la più famosa è Vaterland terra dei padri però ce n'è una che assomiglia un po' che è un concetto che è Heimat invece il concetto di casa il concetto di di un luogo al quale io sento di appartenere noi abbiamo una sola parola che dice questi due concetti ecco spatriare rompe questa idea cioè io non appartengo a nessun luogo io non appartengo a nessuna lingua io penso di avere un'apertura verso il mondo è una scommessa ma quella che fa che fa Claudia con se stessa a un certo punto della propria vita ma si può essere spatriati anche senza andare mai via dal proprio paese io ho conosciuto tante persone spatriate che sono state per me mi hanno insegnato proprio la vita e sono state persone che erano diverse dagli altri ma sono rimaste sempre al stesso paese per esempio io ricordo nel libro non lo cito però è una figura che io ho amato tantissimo che è uno scrittore leccese che si chiamava Antonio Verri che è uno scrittore che nella sua vita ha fatto tutto a Lecce la rivista letteraria fece un quotidiano di poeti pensate negli anni 80 che 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 pazzia bisogna avere ma anche che amore per un idealismo faccio un quotidiano dove le notizie sono tutte date dai poeti in poesia si chiama il pensionato dei saraceni e e lui è proprio uno spatriato cioè lui faceva tutto quello che non bisognava fare e perché io sono cresciuto con l'idea che appunto l'iteras non dant panem cioè proprio le lettere non danno il pane figurati poi le storie figurati se tu sei un poeta poi puoi dire se la fine sei morto e invece la poesia la poesia ti dà delle chiavi anche improbabili che ti permettono di aprire delle porte infatti non è un caso che la spatriata di questo romanzo è una grande amante della poesia che poi è l'altro mio vizio insomma insieme ad altri vizi che non posso dire qua c'è una curiosa coincidenza insomma esteriore ma divertente e anzi in realtà divertente in apparenza poi un po' più cupa nello specifico perché oggi è il 21 aprile 2022 e c'è un passaggio sul 21 aprile del 2002 quindi c'è una scena che è data proprio a 20 anni fa esatti alla fine la grande occasione arrivò le due di notte del 21 aprile 2002 mentre la tv accesa trasmetteva uno speciale sulla morte dell'economista Marco Biaggi assassinato a Bologna dalle nuove brigate rosse in cui militava la clandestina Lioce Pietro si dannava per capire cosa diamine significasse la frase io sono la gomma tu la colla con cui i pirati dell'isola di Mele sbaragliavano il suo avatar Guybrush Tripwood in una gara di insulti il telefono squillò Leo parlava come se avesse ingoiato una pallina da tennis devi farmi un monumento ciao Leo mi devi fare un monumento me l'hai già detto che succede succede che sono sbronzomarcio ora chiedimi perché 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 ti ho procurato un provino con il maestro Pietro Bello perché ho letto questo passaggio oltre che per la coincidenza Buffa Buffa e anche Cupa visto l'evento che ricorda perché quando Mario dice la curiosità che c'entra fino a un certo punto con i limiti dell'eventuale provincia è una molla che forse Pietro scopre dentro questo spazio randaggio è come se fosse meno curioso di quando è partito e poi questa curiosità fosse alimentata dalle persone che incontra da due in particolare che diventano in qualche modo co-protagonisti del romanzo con le loro stranezze con le loro eccentricità perché anche questo potrebbe essere un po' un filo non per appunto sottolineare questi aspetti però perché è vero perché comunque la loro vita eccentrica in qualche modo propone un'altra possibilità di essere al mondo rispetto a quella convenzionale però mi veniva da chiederti una cosa che secondo me è proprio importante in questo romanzo ed ha a che fare con la musica cioè la musica è un'occasione tra le altre ma sicuramente una delle più significative per Pietro per costruirsi diciamo questo spazio randaggio e questa telefonata diciamo un po' è anche la molla di un esperimento con se stesso che trova nella musica poi questo per dire che come la poesia non dà pane qualche volta anzi spesso nemmeno la musica però questa passione che a un certo punto circola nel romanzo che è una passione musicale serve credo al tuo personaggio per cercare di andare avanti nel suo randaggismo cioè gli dà come una specie di carburante per questa misteriosa caldaia interna che altrimenti resterebbe senza appunto senza carburante e a me pare che il carburante sia la musica sì lo è senz'altro nella prima parte ma direi che proprio è un tipo di carburante che potremmo dire accende i personaggi e poi dopo li spegne cioè il romanzo è costruito proprio in un randaggismo continuo che si alimenta perché sono tre parti e ogni parte raccontano un apprendistato e un fallimento la prima parte per l'appunto racconta proprio l'apprendistato di Pietro nella musica perché insomma là dentro lui trova qualche tipo di affinità con il suo sentire certo poi ci sono anche i libri per esempio mi fa mi fa anche sorridere il fatto non me lo ricordavo assolutamente c'era il 21 aprile ma mi fa sorridere perché questa parte si chiama la grande occasione ed è chiaramente diciamo così un riferimento alla grande occasione mancata di ferita o morte di la capria quindi ecco così come nel libro di Mario ci sono tutta una serie di rimandi molto espliciti sulla poesia qua ci sono a volte sotterranei soprattutto sotterranei alla letteratura quindi la prima parte ritorno alla tua domanda la prima parte sicuramente Pietro sente nella musica un possibile trampolino per uscire da quel tipo di famiglia ingombrante di cui parlavamo e affrancarsi e crescere quello che dicevamo prima però naturalmente va male dicevamo prima se no che gusto ci sarebbe nell'affrontare una formazione la seconda parte per esempio quella a Madrid allora si sviluppa con un altro tipo di carburante stavolta sono i libri guarda caso i libri che lo rendono libero ci sono tanti lemmi su cui potremmo spendere del tempo in questo in questo libro Pietro lo capisce lo capisce lentamente con molto sforzo nella seconda parte diventa studente ma capisce anche che i libri forse sono la cosa verso i quali è più affine nella terza parte per l'appunto proverà addirittura una carriera universitaria accademica ma insomma l'ho già detto sono meccanismi che prevedono una fatica un apprendistato ma anche un fallimento perché quello poi su cui volevo continuare un po' insistere ed è il motivo per il quale poi Buffo generazionale è una parola che mi ha sempre fatto molta paura con questo romanzo invece la sto pronunciando molto e senza però questa paura perché voglio dire credo veramente che ci sia una specificità in questo in questo quasi biennio che attraversano i randagi cronologicamente potrei provare a collocarli fra la fine degli anni settanta e la prima degli anni novanta quindi se è vero che il tentativo di fuga è normale del tutto fisiologico lo proviamo tutti non si può crescere non possiamo chiamarci uomini e donne se non fuggiamo se non usciamo da un'egida e vediamo il mondo con i nostri occhi però allora è successo qualche cosa di diverso qualche cosa al quale si cerca un rimedio Pietro lo cerca nella musica poi nei libri e questo qualcosa è secondo me qualcosa che è accaduto solo a loro e sto parlando di un di un fallimento veramente epocale se le generazioni precedenti ai randagi avevano inaugurato un percorso di crescita penso quindi per esempio alla generazione del nonno di Pietro e quindi della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale seguito ancora in crescita questa parabola dalla generazione successiva dal padre di Pietro negli anni del boom economico e questi randagi qua loro hanno realizzato per l'appunto quello che dicevamo prima cioè vale a dire che all'orizzonte non c'era questa non c'era questa luce e da lì lo spaisamento il randagismo diciamo nel libro dialogano oltre a una serie di avvenimenti dei personaggi di finzione sullo sfondo ma nemmeno troppo una serie di eventi della storia con l'essere maiuscola che sono accaduti solo a loro e sono secondo me emblematici un po' per capire questa generazione mi riferisco tu lo leggevi prima al G8 di Genova che è la ferita la ferita con la F maiuscola della mia generazione che a distanza di vent'anni chiunque di voi abbia letto articoli o ascoltato podcast per la commemorazione non ha potuto fare a meno di sentire ancora quell'indignazione quel dolore quella rabbia sostenuti dal fatto che ancora oggi combattiamo per quelle cause forse mi viene da dire con meno vigore di quanto le abbiamo combattute prima nella seconda parte del romanzo ci sono gli attentati terroristici di Madrid altro primo momento nel quale abbiamo capito che poteva arrivare qualcosa dall'esterno di pauroso nella terza c'è l'onda in filigrana i grandi movimenti studenteschi che hanno portato gli studenti a scendere in piazza con dei numeri molto superiori alle manifestazioni del 68 per esempio questi tre elementi marcano questa generazione marcano la fine delle illusioni non si può prescindere diciamo dal parlare di identità per l'appunto senza considerare questi questi tre elementi poi ecco aggiungo e chiudo c'è una cosa che dei randaggi tra virgolette quindi di questa generazione mi piace che credo che possa ancora oggi a distanza di alcuni anni costruire qualcosa e sto parlando del fatto che i randaggi con tutti questi movimenti con tutte queste peregrinazioni Pietro a Madrid ne incrocerà molti con molte storie diverse tutti più o meno in fuga da qualcosa hanno la capacità di riconoscersi quindi come dei randaggi hanno la capacità di in un certo senso fiutarsi diciamola così fiutarsi riconoscersi e unirsi in un branco e questo branco è io credo una famiglia moderna contemporanea più fluida una famiglia che ha nella scelta il suo fattore fondamentale non è la famiglia diciamo che ereditiamo è la famiglia che si sceglie e dopo tante dopo tanti fallimenti dopo tante sconfitte lotte di gruppo movimenti come appunto Genova come appunto l'onda le manifestazioni studentesche questa generazione si è frammentata è diventato individuale da collettivo è diventato individuale adesso mi sembra appunto invece che questo lo sento un po' lo vedo mi sembra che sia che abbia in questa nuova famiglia fluida anche la possibilità invece di reaggregarsi e di riprendere a lottare forse però nel senso che è vero questo ma nel frattempo questa generazione comincia anche a non avere più un'anagrafe così fresca del tutto quindi bisognerebbe capire come comincia se non a invecchiare diciamo a essere fino in fondo adulta e il senso diciamo così del fallimento o almeno dell'apparente sconfitta c'è anche in un passaggio di Dispatriati vi dicevo una scena molto bella in cui due personaggi si rivedono lui Francesco vede Claudia a Milano e ha la sensazione che la vita che Claudia ha a Milano non sia la vita che forse poteva essere stata sognata anche tu a un certo punto nel libro parli di quella dilatazione della giovinezza che in qualche modo investi nell'immaginare il futuro poi però il futuro arriva diventa un presente addirittura un passato e non coincide mai con quello che avevamo appunto immaginato questo è andato di fatto al di là di diciamo delle sconfitte o delle riuscite c'è un momento un altro momento del libro di Mario Desiati in cui Claudia si toglie la gonna sta camminando non vi dico il contesto ma la scena è molto forte si levò la gonna restando in mutande semplici slip di cotone neri e sgambati le cosce si illuminarono nel riflesso della luce che inondava l'androne camminava lenta e marziale verso il suo appartamento sentendosi fortissima il fresco tra le gambe fece affiorare la pelle d'oca come se fosse appena uscita dal mare d'estate una volta dietro la porta dell'appartamento tirò un sospiro riempì la lavatrice con la roba che si era portata nell'ultimo viaggio di lavoro l'odore della città si era attaccato a ogni fibra dallo zaino estrasse l'agenda sfogliò le pagine piene di appuntamenti e promemoria in fondo alla pagina di quel giorno scrisse una parola calcò i caratteri con la penna una sola parola libertà tu Marco hai parlato dell'essere liberi volevo chiedere a Mario questo la libertà è una parola molto impegnativa declinabile in milioni di modi differenti però la sensazione che tu hai da giovane soprattutto è quella di dovertela conquistare questa libertà la libertà per esempio dell'essere curiosi la libertà anche dello sradicamento volontario la libertà in tante dimensioni il sesso la ricerca anche del proprio corpo l'esplorazione delle possibilità del proprio corpo è uno degli elementi che entra in gioco nel tuo libro però se dovessi come dire partire da questa parola che Claudia scrive e darne una definizione come viene data libertà di Malenvirne o di non so come bene si dice o spatriate anzi ecco se dovessi dire libertà dentro questo romanzo che cosa vuol dire? è la libertà di essere se stessi è il discorso che facevo prima sull'identità quindi faccio una piccola citazione permettetemi questa piccola parentesi c'è un piccolo libro di intervista ad Alberto Moravia che si chiama Moravia che uscì nella fine degli anni 60 di Longanesi che faceva questa piccola collana dove intervistavano dei personaggi intellettuali o comunque personaggi della cultura italiana rilevanti e questa intervista ad Alberto Moravia fu fatta da Enzo Siciliano e lui a un certo punto parlava gli fu fatta una domanda un po' così anche un po' provocatoria si parlava appunto della libertà cioè si parlava della libertà e si parlava della e lui inizia a fare una metafora si inerpica su un raffronto fra le formiche le api e gli esseri umani e lui diceva qual è la differenza fra una formica e un essere umano perché io ho fiducia in un uomo e non ho fiducia in una formica perché la formica non è libera perché la formica segue una funzione e prima la funzione e poi l'esistenza invece l'uomo quando dimentica che non è funzione quando dimentica di essere soldato di un'idea di essere dipendente di qualcuno di essere dipendente di una quando parlavo prima delle convenzioni di dover aderire a certe convenzioni quando dimentica tutto questo e ritorna la sua a chi è davvero lui e beh a quel punto l'uomo è un uomo e io mi fido di quell'uomo perché quell'uomo è una persona libera cioè la funzione a volte serve nella vita ma a volte dobbiamo dimenticare questa funzione dobbiamo ricordarci appunto di essere noi stessi quello che in quella scena un po' anche un po' forse cui ho calcato anche nasce da una provocazione insomma Claudia è stata in macchina con tassista che per tutto il tempo l'ha messa in guardia dal quartiere nel quale vive perché ci sono un sacco di uomini ovviamente che deve stare attenta extracomunitari che le possono saltare addosso che la possono molestare però quello che la sta molestando in quel momento questo tassista che le sta dicendo appunto si attenta che le gira con una gonna è pericolosa che le guarda le gambe insomma tutto quello che lui proietta tutta il suo la sua idea del anche un po' come dire retrattile di questo maschilismo e lei in quel momento sente proprio dice ma va fanculo cioè io mi vesto come mi pare in questo momento sono il landrone del mio palazzo finalmente non mi vede nessuno e mi spoglio non do fastidio a nessuno in questo momento tra l'altro non c'è nessuno che si può scandalizzare perché poi molto spesso la libertà scandalizza e questo è un altro tema sul quale si può lavorare nel senso che a volte bisogna essere anche scandalosi ma fino a un certo punto perché poi quando invece lo scandalo diventa invece semplicemente provocazione a quel punto invece non c'è più un passaggio non c'è più una comunicazione si creano subito i muri invece a volte uno scandalo anche in una certa maniera può creare una comunicazione un livello di comunicazione ed è il tentativo che ho cercato di di fare raccontando la storia di Claudio e Francesco perché in realtà e forse ti finisco di rispondere alla prima domanda che ho un po' eluso quando ho utilizzato l'aggettivo generazionale io invece non amo la parola generazionale penso che tutti tutti i romanzi siano generazionali perché tutti parlano di un periodo storico parlano di una parabola di formazione di un personaggio il mio editore ha usato questo aggettivo nella quarta di Covertina quindi io mi sono ovviamente insomma ho apprezzato non discusso è stato ok è anche un modo per far capire che questo libro parla di una fetta storica di un periodo però penso che in qualche modo l'identità più passano gli anni più anche ci sono più bombardamenti c'è più comunque c'è una maggiore fluidità è veramente molto difficile dare parlare di un di qualcosa che non sia molto cioè di dare delle definizioni di masse delle definizioni di questo è l'epoca di questa è l'epoca di tante identità ed è il tentativo di cercare di raccontare questa fluidità che va non soltanto verso una questione di libertà sessuale quindi ma io parlo anche di libertà politica religiosa di guardare il mondo con anche i due protagonisti sono religiosi cristiani al loro modo hanno un loro cristianesimo molto lontano dalle istituzioni la famiglia il concetto di famiglia noi in Italia oggi si parla di famiglia arcobalena ogni volta che si esce da seminato dell'idea convenzionale di famiglia in realtà nascono tanti tipi di comunità che permettono perché oggi in una nazione come la Germania che assomiglia per certi aspetti anche all'Italia come evoluzione in questi anni c'è invece un altissimo tasso di natalità che non c'è in Italia proprio perché esistono delle comunità cioè non c'è l'idea della famiglia che abbiamo in Italia è un'idea molto più fluida più libera ho vissuto in Germania con tante famiglie che oggi verrebbero chiamate in Italia famiglie arcobaleno dove magari due amici si sono messi insieme hanno cresciuto il figlio di un'altra amica certo sono concetti che magari in un nostro paese sono ancora molto spaventano però ci sono persone che questo ce l'hanno dentro magari hanno paura di metterlo in pratica perché temono ancora la pressione sociale di cui parlavamo prima che secondo me è il grande tema ecco forse il tema che è stato di questi anni insieme all'altro grande tema che è stata l'emigrazione quindi lo spostamento perché comunque noi italiani siamo un paese comunque uno dei paesi europei maggiormente emigrato soprattutto il mezzogiorno però la maggior parte delle nazioni europee della comunità europea hanno immigrati italiani faccio un esempio banalissimo pensate che soltanto nella città di Berlino ci sono 13.000 medici infermieri italiani e non ne abbiamo in Italia e sono emigrati tantissimo a Berlino infatti è un mondo cioè noi siamo un paese a fortissima siamo un paese proprio nomade ed è secondo me uno dei grandi temi però insomma qui entriamo in un dell'amarco storio no anch'io penso che sia scivolosa quell'etichetta come ti dicevo generazionale poi spesso fa sentire anche un po' ingabbiati è sempre una posteriore semmai mi ricordo una cosa che una volta mi ha chiarito in una conversazione Nanni Moretti a cui quando faceva i suoi film negli anni 70 gli dicevano fai dei film generazionali e lui ogni volta si arrabbiava dicendo io non faccio dei film generazionali anche col suo modo un po' così ruvido e devo dire quando l'ho intervistato invece qualche anno fa mi ha detto ho sempre rifiutato l'etichetta di generazionale ma se oggi mi dicono che attraverso i miei film io ho raccontato la mia generazione sono contento questo è curioso perché tu dici lì per lì no non voglio raccontare la mia generazione solo la mia generazione a posteriori forse invece poi come dici tu Mario ti capita di raccontarla semplicemente perché sei uno scrittore che sta raccontando anche il suo tempo senza necessariamente appunto cioè se tu pensi di metterti a tavolino a fare romanzo generazionale sembra qualcosa assolutamente anche un po' falso ridicolo allora io lascio la palla a Roberto Ippolito per la coda del dibattito e il dialogo con voi voglio solo Roberto proprio come si fa diciamo quando non so se è un cambio d'allenatore o di io vengo espulso e tu prendi la postazione però mi incuriosiva e quindi magari può essere una piccola traccia chiedermi sulle battute ultime di Mario e anche su cose che ha detto Marco se poi oltre uscendo da questa cosa del generazionale ma anche interrogandoci fuori dai libri se questo solco chiamiamolo così anagrafico anche semplicemente che viene rappresentato da questi due libri cioè gente nata comunque tra la coda degli anni settanta e i primi anni ottanta che è diventata grande sul finire del novecento che ha scavallato il secolo conquistando un po' la coscienza adulta se questa generazione e sarebbe interessante proprio indagarlo ha fatto comunque più fatica a guadagnarsi la sua libertà attenti al punto non rispetto a quelli che sono venuti prima e questa è come dire la solita dialettica con i padri ma con quelli che sono venuti dopo nel senso che la sensazione che ho io non so se l'avete anche voi è che invece i nati alla coda degli anni novanta nei primi anni duemila abbiano fatto un percorso meno tortuoso un po' più immediato per guadagnarsi una sensazione con tutti i traumi che questo può comportare e anche delle ferite in certi casi però voglio dire che il percorso che fa il personaggio di Mario in questo libro per trovare se stesso anche sessualmente è un percorso che molti suoi fratelli minori diciamo così forse hanno fatto quasi dentro l'adolescenza senza doversi chiedere troppo cioè quando mi capita di parlare con persone che oggi hanno 15-16 anni almeno sul fronte del loro rapporto con la sessualità mi sembra che facciano molta meno fatica e quindi in qualche modo anche meno dolore per certi versi però ecco era solo una suggestione su cui ti lascio la conduzione buonasera allora avete detto fra l'altro alcuni temi fondamentali di tutti e due i romanzi una cosa che mi ha colpito è che in tutti e due sono citati molti uomini di cultura soprattutto scrittori e poeti ma anche uomini di cinema uomini dell'arte nei modi più vari e poi c'è un punto in comune che è la poesia e quindi mettere a fuoco il perché di questi riferimenti che sono poi credo un po' anche caratterizzano le figure raccontate nel caso di Marco Amerighi e abbiamo ovviamente molti spagnoli da Don Quixote a Unamuno a Zorin ma abbiamo Vivaldi Chopin Led Zeppelin ma in particolare mi ha colpito sotto il poster di Rafael Alberti allora puoi commentarli tutti ovviamente a proposito di libertà perché questa scelta specifica di Rafael Alberti e perché come dire quella caratterizzazione sotto il poster ma allora innanzitutto c'è tanta letteratura spagnola perché perché fa parte di me dalla mia formazione sono laureato e dottorato in letteratura spagnola e poi c'è una risposta molto più intra-diegetica che sta nel libro e vale a dire che Pietro studia in Spagna e studia in uno di quei momenti che mi interessava indagare cioè lo studio della letteratura e della poesia un momento nel quale ci prendiamo del tempo per leggere e leggere nei testi altrui qualcosa di noi era lì che volevo staccarmi diciamo dall'indagine di una identità per tappe per formazione e invece aprire delle finestre anche su dei momenti invece di riflessione di pausa come fa Pietro i momenti ora qui devo stare un po' attento a cosa dico perché se dico sono momenti in cui non succede niente e beh insomma mi gioco un po' una fetta ma diciamo che non è che non succede niente ma sono quei momenti di passaggio sono quei momenti del del what if cosa succederebbe se e in questi momenti a Pietro accadono sempre mentre sta leggendo c'è una scena per esempio si trova in una biblioteca e si è accorto che l'esame sulla letteratura del siglo XX è molto più lungo di quello che lui pensava immaginava un po' per caso conosce una ragazza e questa ragazza decide di aiutarlo e dargli qualche consiglio su qualche libro c'è un amuno per esempio e un amuno tornerà molto molto comodo diciamo a Pietro per capire un'altra cosa che ancora lui non sa lo deve leggere per questo esame lo fa l'esame lo passa per il rotto della cuffia ma quello che è importante è che poi più avanti quando conoscerà Dora la protagonista femminile del romanzo che ha un altro fidanzato e lui però aspira ad avere una relazione con lei è un amuno e gli ha già detto tutto in niebla di fatto racconta questa storia ed è buffo che Pietro se ne dimentichi all'inizio mentre sta leggendo perché è chiaro che non è strumentale per provarci no non è strumentale per provarci è diciamo quello che in effetti noi troviamo nei libri no cioè sentiamo un riconoscimento un riconoscimento è il momento nel quale noi siamo passati da quella stessa soglia e quindi soltanto allora Pietro alla fine dice beh insomma io già dovevo saperlo che doveva andare a finire così perché me l'aveva detto lui no e spesso ci sono dei giochi simili ci sono con la musica Paolo prima lo notava ma la musica che torna dentro e fuori dal romanzo così come la poesia spesso la poesia è un titolo di un capitolo spesso è nel caso di Raffaele Alberti appunto sì spesso per esempio è un bigliettino che viene lasciato in un posto e che non si capisce è come se in un certo senso fosse una sorta di 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 gara indizi e mi piace mi piace l'idea non solo di farlo da scrittore ma anche di 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 viverlo dal lettore alla fine diciamo che in entrambi i casi non si tratta di citazioni pedante per così dire letterarie per far vedere io so faccio questa citazione si tratta proprio di riferimenti che entrano nel racconto nel tuo caso Mario spazi ancora di più da Salvador Dalì a Pippi Calzelunghe e ovviamente sono molti scrittori fra l'altro mi ha colpito alcune citazioni di scrittori anche una vincitrice di premio strega di un premio strega come Maria Teresa di Lascia e oppure c'è Alba De Cespedes però anche qui c'è molta poesia molti riferimenti o molti accenni alla poesia in particolare direi Dario Bellezza forse su tutti anche qualche accenno generico tipo minuscoli volumi di poeti contemporanei o Raffaele Carrieri sì nell'ultimo capitolo del libro si chiama La stanza degli spiriti ed è una una citazione di un piccolo romanzo o un lungo racconto di Robert Walser che si chiama La passeggiata che è un incipit che per me è uno degli incipit fulminanti cioè dove proprio ti ti comunica proprio il senso della letteratura perché in qualche modo siamo tutti noi legati alla letteratura perché la letteratura è sempre stata caratteristica dell'identità umana il protagonista in questo racconto semplicemente descrive questa sua passeggiata però prima di iniziare il racconto lui saluta la sua stanza ma la saluta in un modo che è una citazione in realtà perché lui dice ciao scrittoio o stanza degli spiriti perché lo scrittoio è la stanza degli spiriti perché cosa c'è sullo scrittoio di uno scrittore del 1919 sicuramente ci sono i libri che lui sta leggendo ci sono le poesie che sta leggendo c'è ovviamente la finestra che lo ispira ci sono le cose che lui sta scrivendo gli spiriti sono in qualche modo le nostre esperienze l'esperienza della nostra vita che hanno cambiato un po' il nostro sguardo sono appunto le esperienze della letteratura però per i tempi nostri anche le esperienze di una serie televisiva di un film di un spettacolo teatrale un'esperienza personale un aneddoto un racconto tutto questo ci cambia sempre di pochino un pochino lo sguardo però questa cosa qui se noi la dobbiamo descrivere a qualcuno non abbiamo una forma fisica anzi molto spesso un libro che ci è piaciuto che avevo letto magari tre anni fa non ci ricordiamo il nome dell'autore del libro non ci ricordiamo il nome del personaggio però c'è rimasto una specie di vento di Geist uso la parola tedesca infatti spirito in tedesco si chiama brezza anche è un'antica parola ebraica quindi questo spirito questa brezza è la brezza che in qualche modo guida un po' la vita di tutti noi lettori che guida anche due lettori come Claudio e Francesco questa brezza è la brezza anche mia personale perché non avrei mai potuto scrivere questo libro senza alcuni dei poeti che ho citato alcuni sono proprio un omaggio altri sono invece proprio funzionali omaggio chi? beh allora Claudia si chiama come Claudia Ruggeri che è una poetessa ahimè scomparsa circostanze terribili nel 1996 è l'autrice un libro di poesia che è soprattutto nel mondo della poesia contemporanea è un po' un libro di culto che si chiama Inferno Minore viene un po' considerata la nostra Anna Sexton però è una poetessa leccese che fu scoperta da Dario Bellezza negli anni 80 apparì con questo cappello rosso durante una festa dell'unità a Lecce fece questo reading quando all'epoca la poesia raccoglieva anche sul grande successo che era stato Castelpozziano cioè si facevano questi reading di lettura dove avevano poeti da tutta Italia a leggere feste dell'unità anche feste dell'amicizia che non è quella della democrazia cristiana ma anche mi ricordo il Salento Poesia negli anni 80 dove sono passati tutti tutti i più grandi poeti italiani e si appunto si leggeva e appare questa ragazza di 17 anni che lesse questa sua sillogia che poi diventò il corpo di Inferno Minore che usava una lingua molto giocava un po' con la lingua dantesca con il dolce stil novo immettendo ovviamente anche la nostra lingua contemporanea ed aveva un canone per noi pugliesi è un canone beniano cioè Carmelo Bene era in qualche modo un po' il maestro culto di Claudia Ruggeri e Claudia insomma è stata sicuramente una delle guide di questo uno degli spiriti dispatriati però accanto a Claudia e tu hai citato Maria Teresa di Lascia che tra l'altro Maria Teresa di Lascia è una scrittrice enorme secondo me ha scritto tra l'altro un romanzo ma anche uno degli incipiti più belli della fine del novecento italiano insomma e vi invito insomma a rileggere Passaggio in ombra romanzo del 1994 che appunto vinse lo strega nel 95 e poi per me questo libro non avrei mai potuto scrivere questo libro senza il pensiero meridiano di Franco Cassano perché Franco Cassano che è un pensatore molto sottovalutato oggi ecco ogni tanto ci penso di questa che penserebbe in questo momento che stiamo vivendo uno come Franco Cassano cioè Franco Cassano alla fine degli anni 90 si inventa questa idea del pensiero meridiano parlando di tutti i difetti tipici del sud usandoli però come possono essere invece l'elettricità del sud era di Bari lui inventò questo concetto del pensiero meridiano fu famosissimo l'incipito dove lui parlava della lentezza e diceva bisogna essere lenti come un treno di campagna e bisogna di fronte a un albero che noi incontriamo provare a dare un nome a quell'albero quindi come dire proprio un modo di guardare il mondo diverso cioè invece di fermarci alla copertina dei libri questa è sempre una sua metafora invece fermarci e provare a leggerla ad aprire e dentare in quel libro l'idea che ci sia un mondo dove le persone provano a dare un nome agli alberi non è così scontato e loro Claudio e Francesco sono proprio due che cercano di dare un nome agli alberi proprio fisicamente infatti ci sono dei pezzi del libro dove Claudio e Francesco proprio danno i nomi alle erbe insomma quando fanno queste passeggiate si soffermano ecco una delle cose che io amerei tantissimo che non è stata ancora inventata è una app che mi permette ogni volta che vedo un fiore o un'erba selvatica fai la foto ma non funziona non funziona non funziona lo so per quello che dico fa degli errori incredibili la gente è avvelenata per questo non si dice ci sono dei morti per questa cosa c'è gente che si è fatta i decotti con la cicuta pensando che fosse il tarassaco e quindi insomma tutto questo dare il nome alle piante e poi si riconnette sempre all'idea che fosse noi tutti siamo in qualche modo tante piante cioè abbiamo tanti nomi di piante dentro di noi molto spesso fingiamo di non riconoscerle però come diceva Franco Cassano fermiamoci e diamo un nome a questi alberi avete parlato molto dei luoghi perché i luoghi come dire caratterizzano tutte e due i romanzi per il punto di partenza no? e però i luoghi sono anche incontri con le persone forse tenterei di mettere a fuoco questo aspetto l'incontro con le persone non del proprio luogo di partenza sì i luoghi di randaggi sono principalmente la pista degli anni 90 di inizio anni 2000 con una coda del romanzo a a Viareggio e poi la parte centrale di cui abbiamo parlato che è a Madrid e e sono o almeno diciamo questa era la mia intenzione sono luoghi descritti con una precisione topografica davvero molto minuziosa dai nomi delle vie al tempo che si impiega per percorrere una strada l'inclinazione di una strada stessa perché perché di fatto volevo riuscire a volevo provare a costruire delle ambientazioni che fossero reali iper reali a contrasto invece con dei personaggi che non hanno questa precisione ne parlavamo un po' prima dell'identità la mancanza di identità di questi ragazzi o ragazze o almeno la ricerca di questa identità ma anche dal punto di vista descrittivo e quindi il modo in cui li descrivo non ci sono delle descrizioni fisiche ci sono dei dettagli dei piccoli dettagli ma sono in un certo senso quasi raccontati come dei contenitori delle forme c'è stato un periodo in cui ricordo Bretis Tonellis aveva fatto qualche cosa di simile soprattutto nei primi romanzi in cui lui si era spinto molto verso la contemporaneità e allora usava le marche per esempio dei vestiti per parlare dei ragazzi e delle ragazze ma non la loro fisicità come se in un certo senso l'esteriore la loro caratterizzazione diciamo il loro essere di altri luoghi sì e poi c'è questo diciamo che questi personaggi che risultano un po' sfocati da questo punto di vista all'interno di un luogo invece così concreto in un certo senso dialogano spiccano meglio e i personaggi che si incontrano negli altri luoghi sono personaggi tutti loro in un certo senso randagi prima avevo accenato a Dora la protagonista del romanzo che è un personaggio spatriato e randagio perché è un personaggio che di fatto è metà italiano metà spagnola vive in Italia vive a Milano perde il padre in condizioni piuttosto drammatiche in una situazione anche un po' misteriosa a 18 anni l'unica cosa che le viene lasciata è una cartolina scritta in spagnolo affrancata da Madrid lei decide quindi di andare a Madrid per cercare di capire chi sia quest'uomo che è uscito prematuramente dalla sua vita e di fatto lei stessa è già randagia quando va ma quando Pietro la conosce è un personaggio del luogo questo è un incontro che lo segna profondamente ce ne sono altri c'è Loran che vedete ancora in copertina e ci sono poi tutta una serie di personaggi che in quel luogo ci stanno ma soltanto in quel momento più sfumati diciamo la caratteristica sì ma soprattutto che come dicevamo un po' all'inizio non appartengono veramente a quel luogo lo intercettano lo incrociano soltanto in quel momento e non è un caso poi che il romanzo si concluda con questi ragazzi che hanno 28 anni quindi nessuno di loro sistemerà tutti i vuoti e tutti gli elementi che ancora non sono a posto però ecco noi le intercettiamo soltanto in alcuni momenti in alcuni luoghi ecco invece Mario o Mario Desiati ovviamente gli incontri negli altri luoghi dei tuoi personaggi e quale caratterizzazione hai scelto? il libro è fra la Puglia e Berlino e però nonostante appunto una parte del romanzo sia sia ambientata gran parte del romanzo in Puglia sicuramente insomma i colori sono un po' lontani dal paesaggio italiano c'è un libro bellissimo un compendio che scrisse Roberto Longhi un grandissimo critico d'arte insomma che ha fatto la storia del nostro novecento proprio nel nostro sguardo e lui aveva un'idea che non esisterebbe cioè la letteratura italiana senza la pittura italiana perché la letteratura italiana ha una luce che ha la pittura italiana cioè se uno pensa ai nostri pittori quella luce lì sta anche nel paesaggio italiano della letteratura italiana è una suggestione ovviamente come tutte le suggestioni può essere messa in discussione però è una suggestione forte io ogni tanto ci penso e inevitabilmente quando si scrive uno prova o a tradire o a cercare di essere aderente siccome questo è un libro di tradimenti che sono insomma di tradimenti il tradire è una cosa insomma che nella letteratura ha anche la parola tradire insomma è polisemica come tu sai no? e quindi non vuol dire soltanto tradimento vuol dire anche altre cose vuol dire anche trasmettere a volte e in questo caso tradisco un po' il paesaggio italiano e lo tradisco perché l'idea per esempio della Puglia questo libro racconta soprattutto un periodo storico della Puglia in cui la Puglia era la primavera pugliese il periodo in cui la Puglia come la California come disse un libro del manager Tato che uscì alla fine degli anni 90 che è stato un libro molto come il pensiero meridiano di Franco Cassano c'era proprio quelli che dicevano no no ma la Puglia è la California non siamo il paesaggio mediterraneo abbacinato ma possiamo diventare la California oppure la Puglia e la Giamaica perché è stato un momento anche in cui dovevamo diventare la Giamaica e la Puglia è quei fondali meravigliosi che vedete su Instagram dove appunto ci sono le onde che scuotono le scogliere di di Polignano però la Puglia è anche ha anche una grande anima nera e ha anche una grande anima nera per esempio oggi la Puglia è una terra dove comunque c'è una zona proprio in cui c'è una lotta feroce con la criminalità organizzata dove in qualche modo purtroppo c'è una ripresa ripresa esatto io sono cresciuto in una Puglia che era la Puglia ecco io ho avuto esperienze personali che raccontare 30 anni dopo fa sorridere però sono cresciuto in un periodo nel quale nella dove io passavo le mie giornate di mare arrivavano questi enormi in motoscafi e il paesino veniva letteralmente chiuso da decine di autoblindo che erano appunto la Sacra Corona Unita che gestiva il traffico il contrabbando un pezzo di storia che in Italia ha raccontato soltanto una persona l'ha raccontata benissimo in un libro che si chiama Le Malevite di Alessandro Leogrande che vi invito a leggere che era un piccolo gioiello lo stesso Saviano disse io non avrei mai scritto Gomorra se non avessi letto Le Malevite di Alessandro Leogrande ecco quella Puglia lì quella Puglia dello sfruttamento perché pensate la Puglia ha questo cuore del pomodoro dello sfruttamento degli schiavi schiavi parola che io uso non appositamente anche qui Leogrande Uomini e Caporali 2007 un altro libro fondamentale quell'aspetto lì è un aspetto oscuro ed è diciamo è la parte buia contro cui in qualche modo cercano di fuggire Claudia e Francesco dall'altra parte poi c'è invece Berlino dove cambia anche la lingua nel senso che se io tradisco il paesaggio italiano nella parte pugliese nella parte tedesca invece mi sento più affine un po' alla musica tecno scusa ne approfitto per una domanda finale poi vediamo se c'è perché detto cambio intervengo sulla lingua volevi dire intervengo con una scrittura specifica ecco ce la spieghi dunque la scrittura del romanzo a due a due velocità nella prima parte la parte pugliese se dovessi può giocare io la Puglia la Martina Franca la città dove crescono Claudio e Francesco lui lo descrive diverse volte nella prima parte soprattutto in estate siccome c'è un festival della musica lirica che si chiama festival della Valle d'Itria tra l'altro un festival della musica lirica delirante bellissimo perché mettono in scena opere inedite cioè tipo l'edizione della Lucia di Lammer morì in francese che non è stata mai messa in scena perché non veniva messa in scena perché erano folli oppure perché erano troppo costose oppure perché erano piene di errori oppure perché non trovavano i finanziamenti per metterle e queste vengono messe in scena secoli decenni dopo insomma e vengono fatte queste queste messe in scena straordinarie perché per tutta la primavera il centro storico si riempie di baritoni soprani tenori che cantano violinisti che suonano l'orchestra quindi senti la gente che prova questo canto questo questo soffuso rumore che un po' arriva in questi vicoli bianchi e c'è questo ritmo che è un po' il ritmo della nostra lingua il ritmo della lingua italiana noi siamo la lingua dell'opera quindi anche un po' forse anche un po' enfatica però che cerca in qualche modo anche la rottura anche dell'idea di una certa sintassi anche di essere più generosi nel racconto nella descrizione nella seconda parte Berlino infatti questa è una cosa che hanno notato molti perché poi ci sono quelli a cui è piaciuto di più la prima parte e quelli a cui è piaciuto di più la seconda parte invece la lingua è un po' più vicina io ho due passioni una che un po' assomiglia anche al mio modo di vedere il mondo e quindi crea sempre dei casini da una parte mi piace molto l'opera però dall'altra parte mi piace proprio quello che ho posto cioè mi piace la tecno che è fatta di ritmi molto sincopati che in qualche modo richiamano anche le percussioni e i due protagonisti sono due animali del clubbing il clubbing è la cultura berlinese dove non è la discoteca semplice non è l'idea di discoteca ma ogni club lo dico la tedesca perché non so bene l'inglese ma si dice club ogni club in Germania ha una propria visione filosofica una visione del mondo dove si fa un certo tipo di musica dove si fanno un certo tipo di installazioni dove si entra con un certo tipo di dress code dove c'è anche un modo di comunicare di scambiarsi delle idee dove si fanno anche proprio eventi culturali il più grande il Berkain è diventata negli anni nei mesi della pandemia la più grande la più grande il più grande museo di opere contemporanee in quel momento che c'era che c'era a Berlino quindi la musica però non è la musica dell'opera è molto più sincopata i ritmi sono molto più più crudi e la tecno in qualche modo lo diceva un grande studioso che si chiama Simon Reynolds la musica tecno ha questa caratteristica sospende il tempo cioè tu quando sei inondato da queste percussioni non guardi né in avanti né indietro sei in una forma di sospensione mentre invece di solito la musica quando noi ascoltiamo anche una canzone che ci piace ci toglie la negatività del futuro cioè noi guardiamo le cose senza il peso della pratica questa è una cosa che non dico io la dice Rimesh in un bellissimo pamphlet sulla musica cioè il vedere attraverso una canzone che ci piace il futuro senza quel peso delle cose che incombolano in un viaggio senza l'idea che noi dobbiamo andare a comprarci una valigia fare un passaporto tutta la pratica va via vediamo solo gli aspetti benefici di quello che è il nostro futuro restituiamo la parola a Marco Venighi sulla scrittura ovviamente balza la domanda sarebbe le scelte di scrittura compiute però balza gli occhi inevitabilmente basta prendere in mano il libro e sfogliarlo si trovano in assoluta evidenza i post-it una cartolina del passato un messaggino un'email in quanto tali cioè quindi non trascritti ma esattamente diciamo o fotografati o con caratteri assolutamente differenziati tale che sembrano proprio una cosa che non ha niente a che fare col testo che è come dire una riproduzione chiamiamola così sì io mi sono preso molte libertà nella scrittura proprio e seguono due vettori che sono apparentemente opposti da una parte che va verso la classicità dall'altra verso invece il racconto della modernità i decenni che attraversano questi ragazzi sono raccontati anche graficamente per l'appunto da una serie di mail di post-it di messaggini e li ritroverete allora con il tipico font del Nokia 3310 che non è un vezzo voglio dire perché racconta anche qualche cosa che mi interessava innanzitutto racconta un certo tempo e non intendo soltanto un tempo cronologico quegli anni con un afflato mimetico sì certo volevo che il lettore si ricordasse di quel momento però era anche un tipo di tempo molto interessante dal punto di vista della scrittura perché molto romanzesco cioè era quel tipo di tempo nel quale ci scrivevamo ancora senza sapere se sarebbe arrivata una risposta un po' come i naufraghi su un'isola deserta che mandavano questo messaggio nella bottiglia e l'SMS era questo era un messaggio nella bottiglia si lanciava non si sapeva si arrivava come una lettera ma la lettera suona un po' passatemi il termine io ne ho scritte tantissime ero veramente un grandissimo amante di lettere mi piacciono scrittori che scrivono lettere Gilberto Severini che scrive delle pistole meravigliose però suona come qualcosa di ottocentesco però in realtà è un tempo in sospensione non un presente continuo della tecno è quel tempo nel quale nell'attesa noi non possiamo fare altro appunto che aspettare e quando la risposta arriva anche di miracoloso in un certo senso quindi questo diciamo era una cosa che mi interessava e che ho apportato nel libro in un'ottica di riflettere su che cos'è la comunicazione in questo momento aggiungo questo che il romanzo si conclude nel 2008 e non è un anno qualunque è l'anno dell'esplosione di Facebook in Italia è un anno che cambia profondamente la comunicazione quindi non c'è il problema della spunta blu certo esattamente e quindi molto più rapida però tornando a un concetto un po' ottocentesco forse non c'è quella profondità dell'attesa quindi c'è molta più velocità ma passatemi il termine anche una globalizzazione che lo ha reso superficiale poi quella stessa globalizzazione che ha creato una serie di storture di cui adesso non abbiamo tempo di parlare e aggiungo questo l'altro vettore verso la classicità è restituito lo vedrete sfogliando il libro da una serie di parole che desuete arcaiche gergali c'è un po' di tutto perché è la lingua degli scrittori ai quali mi sono abbeverato e questo è un libro l'abbiamo già detto che parla di libri ma è scritto anche nella lingua di un certo tipo di letteratura ho riletto molto Pratolini Bilenchi ma Tozzi per esempio che era se ci pensiamo era uno scrittore che cent'anni fa parlava di inetti che assomigliano un po' a questi randaci e allora ci sono tante parole che naturalmente ecco non voglio farvi preoccupare anche qua a Roma si intuiscono si capiscono dal contesto voglio dire però per me erano particolarmente importanti perché come scrittore toscano io stavo cercando di inserirmi in un solco e cercare di capire anche quale poteva essere invece il mio apporto come potevo aggiungere qualcosa a questa classicità una classicità poi che insomma verso la quale poi non sempre mi sono trovato appagato ho riletto Cassola un autore che ho amato tanto in un momento della mia vita e che invece l'ho trovato polveroso forse per i discorsi anche di identità di un certo tipo di intellettuale maschio così eteronormativo però poi ci sono anche tanti altri tipi di cose che invece mi sono mi hanno in un certo senso veramente accresciuto c'è una parola magari leggendola viene voglia proprio di sottolinearla perché dice ma questo che caspita si è inventato perché ammetto che ci sono anche delle parole inventate cioè ci sono delle manipolazioni delle storture una delle ultime parole del libro è brividio però insomma si può andare a cercare in alcuni vocabolari c'è in altri non c'è quindi insomma qua con l'editor abbiamo portato avanti un po' di battaglie diciamo che ti hanno sopportato mi hanno sopportato però ecco se vuoi racconto giusto questa questa parola mi fa abbastanza ridere anche in relazione a una serie di fatti di cronaca abbastanza recenti che è sciabigotto allora sciabigotto è una parola che almeno viene attestato per la prima volta a Lucca con Napoleone Napoleone arriva a Lucca nel palazzo ducale sta emanando quell'editto famoso che conosciamo dal foscolo per il quale nei sepolcri e i cimiteri vengono spostati al di fuori delle mura Napoleone dà questa comunicazione e Lucca troneggia e comincia a rumoreggiare e Napoleone chi osa Chien Bigot perdonate il mio francese non è esattamente il migliore e questa parola poi naturalmente fa quello che fanno le parole incomincia a muoversi arriva al mare arriva a Viareggio questa è una parola che trovate soltanto a Viareggio c'è nel libro e quando l'ho presentato a Viareggio devo dire che c'è stato un grandissimo entusiasmo da stadio no? altri però non l'avevano assolutamente notato e che succede poi a Viareggio che si fonde con la realtà di Viareggina a Viareggio esiste un tipo di rete che si chiama sciabiga che è la rete che usano quelli che percepiscono gli invalidi cioè che percepivano però non vorrei sbagliare in Sicilia Messina sciabica è un modo di pescare che è da terra quindi con una rete molto lunga chilometrica proprio perché sono gli anziani che non possono più andare in mare aperto e quindi trainano tutti insieme ecco quindi che insomma questa è una parola che assume un valore un'umanità che insomma è in attesa in un certo senso allora temo che causa mia in particolare ci siamo dilungati troppo non so se c'è qualcuno nell'angolino no? nessuno e allora vi chiedo scusa se sono costretto a tagliarmi vi chiedo scusa di essere un abusivo temo che facciamo in tempo non dipende da me allora una domanda sì se può venire qui forse perché per motivi di ripresa allora scusate entrambi i libri allora prima con Marco e a me il libro è piaciuto non ho capito bene il finale nel senso che non c'è un finale io avevo sperato che 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 Dora perché commento al finale con Dora e Pietro ci sarebbe stato un qualcosa non si sa non si sa forse sì c'è stato però c'è stato per gli amici a casa possiamo dire che c'è stato io spero di sì comunque il libro diciamo è valido comunque qualunque sia il finale qualunque Pietro in fin dei conti viva la sua vita cerca di fare quello che può nella sua famiglia è stranissima gli scompaiono tutti scompaiono in vari motivi questo non abbiamo detto è una famiglia di scomparsi praticamente in vari motivi comunque il libro è valido a me diciamo che è piaciuto faccio complimenti grazie invece a Mario devo dire una cosa tante belle citazioni tante belle cose però la trasgressione sessuale lì non l'ho capito sinceramente ma io spero no sinceramente quando 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 leggerete il libro a me non è piaciuto sinceramente l'avrei l'avrei omesse quelle quelle espressioni quelle quei modi di vivere di pugliesi in Germania si devono cambiare completamente perché ma è bello se non c'è che si introduce poi comunque contento cioè contento di a me comunque complimenti allora si è parlato molto di libertà abbiamo avuto un esempio di libertà e siamo grati e quindi all'insegna della libertà e anche della libertà di voto perché come dire ci si incammina in un processo molto importante divertente simpatico in pieno agonismo ringraziamo la biblioteca Raffello ringraziamo la fondazione Bellonci promotrice di tutti gli incontri Marco Merighi Mario Desiati Paolo Di Paolo che è dovuto fuggire per esigenze varie buonasera a tutti considero questo ipotico grazie applausi grazie 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 grazie